Quindi tra due settimane, tre settimane, ti laurei in ingegneria? Gestionale, sì. Gestionale, però allora devo subito insultarti, eh. Non è un bel ingegnere, però. Lo sapete, subito un bel flame. No, quando io dovevo decidere dove iscrivermi, a che ingegneria iscrivermi per l'esattezza, perché volevo fare ingegneria, feci anche il test a ingegneria gestionale a Tor Vergata e poi però ero passato sia lì che a Roma 3 Ingegneria Elettronica e un mio professore del liceo mi disse tipo no, ma che ingegneria gestionale, sei matto? Quelli non sono né carne né pesce, perché fanno un po' di economia e un po' di ingegneria, ma alla fine non approfondiscono nessuna delle due cose. Ti ci ritrovi? Eh, allora, un po' è vero, però devo dire che in realtà potrebbe essere vista anche al contrario. Cioè che poi alla fine puoi andare a lavorare sia nei posti che chiedono laurea in economia, sia nei posti che chiedono laurea in ingegneria. Basta fare un po' di formazione in più o specializzarsi nel ramo che preferisci. Ti è piaciuto fare l'università? Quanto ci hai messo? Cinque anni, giusti. Ammazza, la grande proprio. Era un... ah già, giusto, perché io... È 3 più 2 adesso. Ah, no, come adesso è 3 più 2? Eh sì, 3 più 2. Trennale, tre anni è già fatta. Questa è magistrale. Ok, però io sapevo, scorreggetemi se sbaglio ragazzi, nei commenti, perché io, quando mi sono laureato io, il 3 più 2 ancora doveva venire. Perché io, pensa, mi sono laureato, in verità, l'anno in cui poi avevano introdotto il 3 più 2. Quindi se io non mi fossi laureato, poi sarei dovuto trasferire i miei esami in questa magistrale. Però mi sono laureato e quindi mi sono laureato in quella che si chiama laurea vecchio ordinamento. E poi ha cominciato il 3 più 2. Ma io sapevo che l'avevano levato. No, 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 c'è ancora. C'è ancora tra i due. Ah, ok, perfetto. Non per tutte le facoltà. Ah, vedi. Medicina no, mi pare. Ad esempio. Medicina ancora sei anni, più specialistiche. Più specialistiche, eccetera. No, ma per esempio, giurisprudenza, io sapevo che adesso il 3 più 2 non c'è più. La magistrale, la... Scusami, la triennale, la magistrale. Invece tu hai fatto... Questo non lo so. Triennale e magistrale. E la tesi in cosa? Tesi sul fallimento delle catene, grandi catene di distribuzione organizzata negli ultimi cinque anni. Che cos'è la distribuzione organizzata? Ad esempio, supermercati, oppure posti come le Rua Merlin, Kea, Victoria, Aras, negli Stati Uniti. Perché negli Stati Uniti ne sono fallite un sacco e anche da noi c'è stato un grosso calo. Insomma, molte sono fallite, molte hanno chiuso posti di punti vendita, molte hanno licenziato personale, anche Troni mi sembra. Forse lì a Roma addirittura. Ma io li vedo abbastanza, come si dice, in salute, sempre pieni e invece no. Eh no, allora ci sono alcuni che sono falliti, altri invece stanno andando molto bene e lo scopo della tesi era proprio capire quali fossero le motivazioni del fallimento di quelli che sono falliti e quali sono invece stati i comportamenti virtuosi di chi... Quindi, cioè, adesso me lo dirai, ma sono falliti per Amazon? Allora, l'idea è quella che si fanno tutti è proprio se sono falliti per Amazon. Invece no. La nostra domanda era proprio andare a capire quello, cioè se il motivo fosse l'e-commerce. E la risposta? In realtà, la risposta è che in realtà per quanto riguarda le grandi catene organizzate, le grandi, quelle più grandi, in realtà l'e-commerce dà una spinta. Sono i negozi più piccoli che soffrono l'e-commerce, invece le catene più grandi possono, hanno magari la possibilità di lanciare il proprio sito, hanno già una base di clientela molto ampia e possono sfruttarlo e integrarlo in maniera migliore possibile. Quindi, alla fine, perché sono fallite? Sono fallite molte, ad esempio negli Stati Uniti, perché c'era una concentrazione troppo elevata. Mi sembra, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che negli Stati Uniti ci fosse 25 piedi quadri di superficie di grande vendita per ogni persona. Mentre in Italia siamo tipo a tre, per dire. Wow, quindi c'è, semplicemente si sono tutti tuffati in quel business quando l'hanno visto fruttuoso, hanno aperto un sacco di catene su catene e poi chiaramente il mercato non ha retto perché non ce n'erano abbastanza clienti. Che è un po' forse quello che succede in multisala in America? Sì, 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 è un pochino... Perché veramente c'è un multisala per abitante quasi, quando invece da noi, sai che in multisala hanno cominciato, ci sono ancora dei cinema che sono a sala singola, forse... Tu sei di Varese? Sì, 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 ce n'è qualcuno. Forse a Varese siete più avanti, quindi probabilmente non ci sono più i cinema a sala singola, invece a Roma sì, te lo dico. No, qualcuno ce n'è, ce n'è ancora, però sono più fuori, in centro città no, c'è un multisala anche nel... Che tra l'altro mi dicevi che Varese è pre-Alpi, cioè praticamente, ma non è, come si dice, non è in zona montuosa, no? Cioè una cittadina... No, 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 è a 400 metri sul livello del mare. Ah, 400 metri sul livello del mare, allora un po' alta, dai. Come si vive a Varese? Sì, sì, bro. C'è poco, però in generale si vive bene, cioè se uno ha la famiglia è perfetta. Caspita. È vicina a Milano, è vicina alla Svizzera. Sai io cosa, di Varese ricordo, ovviamente, a parte che ci sono stato, perché di Varese credo che fosse NG, NGI. Hai mai sentito questa società? No. Sì, ma... Quelli che fanno, adesso come adesso fanno connessioni, facevano i LAN party, i LAN party ai quali ho partecipato io nel 2000-2001, ed erano... La sede era a Varese, sono sicuro che la sede era a Varese, perché questo me lo ricordo proprio, e credo che tra l'altro da lì fosse proprio partito un po' tutto il movimento più o meno di gaming e net gaming, ma tu c'hai un'altra età, in fondo erano vent'anni fa, c'hai ventitré anni, e quindi, insomma, a tre anni non ti potano mettere davanti al computer, è giusto. No, però mi hanno messo poco dopo, eh, quindi... No, so che in zona c'è la serie di Tom's Hardware. Ah, sì, sì. E... No. Lignano, mi sembra. Ah, ok, sì, perché a Bergamo, invece, c'è l'E-Sport Palace. Sì, 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 che è sempre della stessa catena, prego. Ma ti interessi di E-Sport, tu, oltre che di Magic? Ma io, allora, diciamo che ho giocato un sacco a Warcraft e World of Warcraft, sin da quando... A Warcraft cosa? Warcraft 3? Sì. Quello a cui giocavo io? Sì, però avevo piccolo, avevo 6-7 anni. Grande, figo, figo. E mi hai mai sentito parlare dei Sol? No, perché non giocavi online. Eh, no, in realtà giocavo un po' con mio zio. Oh, che figo. Bello, bello. E anche lui faceva i lampardi ai tempi. Mi aveva anche portato una volta a un lampardi quando avevo tipo 6-7 anni. Bello, magari ci siamo incontrati, che ne sai. Anche perché io sono stato a tutti i lampardi dove c'erano Warcraft 3, praticamente a tutti. E senti, Warcraft 3 è un gioco fighissimo, strategico, insomma, in tempo reale, che poi dà la vita iniziale ai mobba. Che razza prendevi? Ma a me in realtà piacevano gli altri della notte. Ah, ok, fighissimo. Vabbè, perché in realtà sembrava che ti volevi vergognare? No, è figo. No, no, no. Come? Beh, comunque, da Warcraft 3 a Magic il passo non ti dico che è breve, però insomma è quello. Perché tu sei appunto, Mattia Oneto, il campione, ex campione purtroppo, perché una settimana fa non sei riuscito a riconfermarti, di quello che si chiama MOX, cioè del torneo finale di tutta la stagione online, vero? Esatto. Che, attenzione. Magic Online. Magic Online non Arena, perché questo è molto importante, perché poi è nato Arena e su Arena chiaramente la cosa è molto diversa. Su Arena si è voluto un po' riprendere anche la struttura dei PTQ, no? Magic Online è un filo diverso. Come si diventa campione dei MOX? Cioè tu hai dovuto grindare tutto l'anno, un sacco di eventi, eccetera, o no? Allora, io in realtà diciamo che ho fatto qualche mese a giocare tanto, perché avevo finito prima gli esami, tipo un paio di mesi, luglio-agosto del 2018, avevo finito prima gli esami, ho avuto un paio di mesi liberi e ho giocato tanto, però solo leghe, quindi avevo fatto solo un sacco di QP, perché mi volevo preparare per un GP che c'è stato a Praga. Ok, allora, i QP per chi non lo sapesse sono i Qualifier Points, si chiamano così, e sono fondamentalmente dei punti che si vincono all'interno delle leghe e che possono essere utilizzati per partecipare ad eventi un po' più premium, no? Esattamente, esattamente. Però l'avevo giocato, insomma, solo per prepararmi a quell'evento, cioè senza l'intenzione di giocare poi ai MOX. Ok, quindi tu giocavi come tutti per testare? Sì, esattamente. E poi? Poi vabbè, sono andato a fare quell'evento lì, è andato abbastanza bene. Con quell'evento c'è il GP? Sì. Quindi GP? Cartaceo, stiamo parlando. Cartaceo. Quindi tu ti sei allenato online su MTGO, come tutti, e sei andato a fare il GP a Praga, Cartaceo, Limited? Modern. Modern, perché poi parleremo di questo, eh? Perché, vabbè, insomma. E come è andato? Eh, se non sbaglio ero partito 11-1, ma non sono riuscito a fare 2-8. Avevo perso da Straski, che poi ha vinto il GP, mi pare. O comunque ha fatto tipo top 4. Allora, è il 2018, quindi è il modern, pre-modern Horizon. Sì, 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 sì. Era ancora modern con Humans, Arden's Case, Ubi Miracle, era prima, KCI c'era anche. E che giocavi tu? Umani. Umani? Figo, mazzo, molto skill intensive, o sbaglio, che tra l'altro è anche un po' ritornato. E quindi fai un buon risultato al GP, vai a soldi immagino, perché dopo 11-1. Sì, sì, sì. Ok. Ho vinto tipo, mi sembra, 500 dollari. E poi, vabbè, sono tornato e ho visto che c'era la possibilità di fare, di usare, insomma, questi cupì, dato che mi scocciava tenerli lì. E allora, vabbè, ho giocato un playoff. Il playoff era un evento da otto turni, in cui facendo 6-2 o meglio, si vinceva, insomma, la qualifica a un preliminary, che è invece il torneo di qualificazione vero e proprio per la finale del Mox. Allora, vabbè, ho giocato questo playoff, ho preso un mazzo a caso, mai giocato, che era a modo bianco aggro. E ho fatto forse una Lega, no, standard era questo. Ho fatto forse una Lega prima del torneo. È andato bene, ho fatto, sono partito 7-0 e ho perso l'ultima. E poi, vabbè, giocherò anche il prelimino. E ho detto, eh, a sto punto sono qualificato. Eh, cazzo. Allora, anche lì, ho giocato sempre lo stesso mazzo, facendo forse due leghe. Ma che standard era, per curiosità? Era quello con PG, con Chupacabra, Agli Explore. Ok, era l'inizio d'Arena, quindi? Sì, 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 proprio... Sì, con il mazzo io mi ricordo di averlo giocato in su Arena. Era BG Explore, a spunto, faceva un super value con la 1-3 che diventava gigante e così via. Sì, esattamente. Io sempre giocavo mano bianco. Poi, tra l'altro, il Pro Tour l'ha vinto sempre mano bianco di quei giochi. Ah, pensa, quindi il mazzo che comunque giocavi tu. Quindi fai questo preliminary? E anche lì sono partito 7-0. Ho fatto 8-1, poi alla fine mi sembra, in Svizzera. E sono arrivato secondo. E i primi due vincevano l'invito al Mox, al finale. Ok, quindi sei arrivato secondo... A parte che quando sei arrivato secondo a un preliminary, ma quanto vinci? Un sacco, vero? Eh, avevo vinto, mi sembra... Non vorrei dire una stupidaggine, ma tipo 800-900 euro di roba. Ah, 900 euro. Tra chest... Sì, tra chest... Forse 4 set completi, mi pare. Ma guarda, questa è una cosa che io continuo a dire a tutti. Tanta gente in Italia vuole fare il giocatore professionista. Perché? Vuole fare il giocatore professionista, vuole fare il giocatore professionista. Fare il giocatore professionista significa, immagino che tu più o meno lo sappia, fondamentalmente per avere dei soldi, ci sono due modi. O te li dà un team, e quindi effettivamente fai il professionista. O se no streammi e te li dà la community. Esatto. È molto difficile, invece, che, a parte casi tipo Reynor, che tu riesca con i premi dei tornei. Mentre Magic, zitto, zitto, nessuno lo sa, nessuno lo dice, gli articoli non escono. Premia con 1000 euro. Ogni settimana c'è un torneo dove tu rischi di vincere così tanti soldi. Sì, 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 ma infatti c'è un po' di gente che ci gioca. C'è da dire che è più facile fare il giocatore professionista in paesi dove il costo della vita è più basso. Quasi tutti i giocatori professionisti sono o brasiliani, o polacchi, Repubblica Ceca, posti dove, insomma, vincere 1000 euro, già ti sei fatto lo stipendio alla grande. No, certo, è chiaro, è normale che da noi... Ma io non dico, come sai, io, insomma, tu so che mi segui, non sono uno che auspica o che sponsorizza questo tipo di stile di vita, anzi, abbiamo parlato inizialmente del fatto che tra tre settimane di lauree, che direi che è una cosa importante, poi entri nel fantastico mondo della disoccupazione, sappilo, ma speriamo in verità che tu ci rimanga poco e diventi subito occupato e ti sei elevato il pensiero e come hobby poi fai quello che ti pare, sia con i tuoi soldi che eccetera. Però, ripeto, ci sono tantissime persone che vedono in me comunque un punto di riferimento, mi scrivono, voglio fare il giocatore professionista e lo voglio fare di Rainbow Six, di Fortnite, di questo e di quell'altro. E, cioè, proprio non ci sono soldi per quei tornei. Sì, 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 assolutamente, però. O ce ne sono pochi, invece in Magic ce ne sono tantissimi, però in Magic, per carità, c'è la famosa varianza. Comunque, dicevamo, ti qualifichi quindi alla finale di questo fantastico MOX. Perché adesso c'è... Aspetta, vai tu, raccordi, perché adesso tu hai partecipato alla finale del MOX del... Sì. Ok, perfetto, quindi era un evento simile, con 32 giocatori che sono i migliori? Sì, i 24 giocatori. Ok, 24 giocatori? Allora, tra i 24 c'era sempre il vincitore dell'anno precedente, poi i vincitori delle singole MOX preliminari durante l'anno, e poi, vabbè, quest'anno hanno cambiato leggermente, però sostanzialmente chi ha fatto molto bene durante l'anno va in una leaderboard con, non so, magari se hai fatto tante top 8 alle finali dei preliminari, ma non sei mai riuscito a qualificarti, hai la possibilità di entrare anche tramite questa leaderboard, una classifica. Ok, e l'anno invece dove c'eri tu, sempre 24? Cioè, scusami, l'anno in cui hai vinto tu, perché tu poi ci sei stato anche quest'anno. Quindi, 24 giocatori, era la finale del MOX. Tu ti presenti e... Com'è? Tutto su MTGO? Sì, tutto su MTGO, però in presenza. Che vuol dire? Sono andato a Seattle a giocare, al headquarter della Wizards. Dai, fighissimo! Ma l'hanno sempre fatti così? Che io sappia, i primi anni non era negli headquarter della Wizards, ma in altri posti, tipo forse in concomitanza con dei GP o cose del genere. Però sì, è qualche anno che l'hanno sempre fatto, insomma, da tipo 4-5 anni, sempre nelle headquarter della Wizards. E senti, Seattle è la città del grunge, di Carcobane, degli Alice in Chains, di un sacco di band che io adoro. Com'è Seattle? Sai che non ci sono mai stato. Seattle è una città carina, piove sempre, però è abbastanza carina, devo dire. Io ho visto un po' di città negli Stati Uniti e mi è piaciuta. È un po' più, se vuoi, almeno nel centro, sembra un po' più europea rispetto alle altre, perché ci sono sì di grattacieli enormi, ma un po' meno rispetto alle altre. E poi, vabbè, è carina, c'è anche un museo che si chiama Museum of Popa Culture, mi pare, disegnato da Frank Gehry, che è quello lo stesso del Guggenheim. Ok. E praticamente all'interno ci sono tutte cose dell'Apoculture, tra cui, non so, ad esempio, merchandising originale di band grunge di Seattle, ma anche... Sì, sono andato, infatti, a vederlo. Ma non solo, ma ci sono anche... c'è anche tutta un'ala dedicata al fantasy. Ma dai! In cui ci sono dentro le repliche tipo delle spade del Signore degli Anelli. Ma perché? Si sono inventati il fantasy lì, in qualche modo? No, semplicemente lo volano... No, perché è sponsorizzato dalla Wizards, infatti ci sono dentro anche le carte di Magic. Ah, che figo! Il museo è sponsorizzato dalla Wizards? Ok, perfetto, quindi D&D è normale, perché comunque Hasbro e Wizard of the Ghost possiede il brand di Dungeons & Dragons. Esatto. Cioè, comunque, considerati un video un botto per essere stato all'interno dell'Headquarter Wizard. Com'è? È affigata, penso. Ma, sì, c'è... Allora, dall'esterno, vabbè, è un'azienda normale, però all'interno ci sono ad esempio gli ascensori con dipinti planeswalker sulle porte, poi c'è un drago enorme dentro, che ha un nome che non mi ricordo, ma è un nome... forse Missy, qualcosa del genere. Va bene. Comunque, sì, è carino, molto carino. No, io ho visto... sai che di recente hanno cominciato a fare marketing bene, bisogna ringraziarli, perché quando tu hai vinto il Mox non sapevano manco che cos'era, poi hanno cominciato a fare i trailer fighi, le dirette su Twitch fighe, e a presentarti le cose dai loro headquarter, e c'è questa ala... io immagino che sia tipo, non so se... non un garage, però insomma, una parte, un open space gigante, dove avevano levato i tavoli e passavano da una parte all'altra e c'erano appunto tutte le gigantografie delle varie carte che dovevano presentare. me lo immagino come un posto veramente figo dove lavorare, e credo... Scusami, quella ala lì è dove abbiamo giocato il torneo, al posto delle gigantografie delle carte hanno messo una tavolata con tutti i PC da gaming, e appunto lì abbiamo giocato i Mox. Ok, 24 giocatori provenienti più o meno da tutte le parti del mondo, quindi arriva Mattia Oneto, unico italiano. Sì. Ok. E vince. Com'è sto torneo? A parte che vince virgola 40 mila dollari, virgola cazzo, punto esclamativo. E com'è stata fondamentalmente questa esperienza? Tra l'altro, come si svolgeva il torneo? Perché erano tre porzioni con tre formati diversi, sei dovuto studiare di tutto, di più? Sì, allora il torneo era fatto così, primo giorno, sette turni, tre di draft, quattro di standard, secondo giorno, tre di draft, quattro di modern, e poi la finale, cioè scusa, la top 4. Il taglio era in top 4, penso un po', quindi semifinale e finale, basta? Esatto. E top 4? Top 4 erano due match, uno modern e uno standard, più un eventuale terzo match, match è non game, quindi al meglio delle tre. Due best of three? Due boh tre? Due best of three. Ok. Più un terzo bio free. Se ci fosse stato un pareggio? Sì, conformato a scelta del giocatore con più punti in Svizzera. Ok, perfetto, quindi sei arrivato, hai fatto draft, era il draft di? Oddio, come si chiama quella dopo? La cultura avnica era? No, dopo, oddio, quella con Teferir Time Revel, non mi ricordo più il nome. Ah, War of the Spark. War of the Spark, esatto, War of the Spark. Ok, quindi scusami, però War of the Spark è un'espansione di aprile? Sì, infatti il mio torneo è stato a maggio. Ah, però adesso è stato ad adesso. Sì, perché è stato l'inviato per il Covid. Ah, ok, perfetto. Allora, quindi, dicevamo, War of the Spark, draft, Matteo Neto, si siete al suo tavolo, unico italiano, e fa 3-0. No, non è possibile. No, ho fatto 2-1. Eh, dai, non potevi subito. Ho fatto 2-1. E, vabbè, ma c'erano giocatori famosi? C'erano dei pro? C'erano. I grinder online sono un po' diversi dai pro, vero? Dai pro cartacei. Sì, 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 è vero. No, in questo caso c'erano più o meno metà e metà, però devo dire che c'era Marzio Carvaio a giocare, c'era Kenji Tsumura, se non sbaglio è Hall of Fame, c'era Autumn Burchett. Ah, mazza, erano le prime volte che c'erano loro, perché bisogna usare il loro. Sì, no, in realtà, se non sbaglio, aveva appena vinto il PT. Era il PT prima, no, due PT prima aveva vinto con Monoblue Devotion. Ah, ok. Quindi aveva già vinto il prodotto. Ok, perfetto. Sì, comunque era da poco nella scena. Perché stiamo parlando comunque di 2019. 2018 questo. No, scusa, sì, 2019. Eh, 2019, sì, sì. War of the Spark. Sì, War of the Spark, aprile 2019, sì. Trono del Drain, sì, 2019, perfetto. E quindi ti siedi, fai 2-1 e poi devi giocare standard. Stavolta avevi testato però, di la verità. In realtà, no, nel senso che era un periodo incasinatissimo in università e allora avevo fatto un po' di draft, quello sì. Standard però ero già convintissimo del mio mazzo. Moro Bianco. Mono Bianco, sì, lo stesso. Che cazzo giocava sto mazzo? Ah, è quello che giocava Benalish Marshall e giocava la 2-1 che si saccava e dava indistruttibile. Quello lì. Ok, quello lì. E tu eri convintissimo di fare drop a 1, drop a 2 Benalish Marshall meno. Convintissimo e ho dato le mie 75 mai testate anche a Gallinari quel weekend lì, che è andato a fare un BTQ a Milano da 200 passapersone e l'ha vinto. Quindi vabbè, ho capito, sto mazzo era una mina. Era imbattibile. Era imbattibile, semplicemente imbattibile, ok, perfetto. In realtà una l'ho persa in standard, sono partito 3-0 e ho perso l'ultima. Con chi hai perso? Contro uno che adesso è rival, si chiama Bernardo Santos. Ah, ok, ho capito che... Tra l'altro, scusa, non ti ho chiesto, ma quest'evento qui era streammato? Sì, 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 era streammato. Figo, poi mi lo vado a recuperare. Me lo vado a recuperare. Tutto, ripeto, su MTGO, arena c'era, ma si giocava su MTGO. Per tutti quelli che, io questo lo dico perché poi ogni tanto dice, no, ma ti MTGO, piattaforma morta. No, ragazzi, ci investono ancora, tant'è che ci fanno il MOX. Ci sono un sacco di premi, un sacco di gente che spende e nel 2019 ci hanno fatto il MOX dal vivo, nel 2020 l'hanno fatto comunque col Covid. c'era comunque un bel monte premi, perché il MOX ha un monte premi mica da ridere. Poi adesso con gli arena open e tutto, anche l'arena sta cominciando a diventare serio. Però, insomma, questa cosa qui magari in pochi la sanno. Quindi, ti presenti con solo due sconfitte al day 2, dove dovrai giocare un draft, sempre immagino di War of the Spark. Sì, esattamente. E poi modern. E in modern riporti umani? No, in modern ho giocato i Z-Phoenix. Era il tempo di... Ah, mamma mia. Sì, me lo ricordo quel periodo. Sai che quel periodo io mi ero quasi allontanato dal modern, che non mi piaceva per niente. Cioè, veramente i Z-Phoenix era molto, molto fastidioso. Poi in un ottimo è morto. Purtroppo sì, a me piaceva un sacco, devo dire la verità, come mazzo. E ci avevo fatto... Quello invece l'avevo giocato tantissimo, tipo 3-400 match. Beh, perché tu sei un giocatore modern comunque, nasci come giocatore modern, come più o meno tutti gli italiani cartacei, no? Sì, allora, in realtà il mio formato preferito penso sia lo standard. Però ho giocato... Insomma, il modern qui in Italia è il più giocato e sicuramente il formato che ho giocato di più. Non vediamo l'ora di tornarlo a giocare nei tavoli, caspita. Poi è un bel evento, un bel raduno dove conosce... Adesso io mi sto facendo questa esperienza dal lockdown in poi, queste interviste, questi video. Sto conoscendo un sacco di persone fantastiche e non vedo l'ora in verità di conoscere dal vivo e ogni volta dico quando sarà, boh, e sta cosa mi spiace un sacco. Speriamo presto. Speriamo veramente presto. E in modern come vai? In modern ho fatto 2-2. Ho fatto 2-2 e ho perso una da umani e l'altra da... non mi ricordo. E il draft invece della mattina immagino 3-0. No, il draft ho fatto 2-1. Quindi tu in totale hai fatto 2-4, mi hai detto 6-2 il primo giorno. 2 perse il primo giorno e 3 perse il secondo giorno. Quindi 9-5. 9-5 e si faceva top 4? Sono arrivato quarto. Con 9-5 sì. Alla grande. Alla grande. E quindi poi c'è il giorno della finalissima. Ripeto, Mattio Neto si siede, unico italiano lì, ma non c'era venuto qualche tuo amico. No, eri da solo? No, ero da solo. Ok. Ci sta, ci sta. Io pure ho fatto dei tornei all'estero da solo, non di Magic, di videogiochi. e quindi nella finale top 4 un match standard, un match di modern contro chi becchi il primo semifinalista, eh? Marzio Carvaio. Hai capito? Che ha una grande fama, vero? È molto, molto forte. Ai tempi era tipo tra i primi tre al mondo sicuramente. Ma anche adesso probabilmente è arrivato secondo al mondiale quest'anno. Esatto. Continua a giocare molto bene, direi, il buon Marzio. E quindi hai giocato una partita di standard col tuo fidato mono bianco e lo stracci? Distrutto. Lui che giocava? Lui giocava S per mid range con Hero of Precinct 1. Ok, ok, ok. Il mitico, quello si chiamava Esperino, lo chiamava. O Esperiro, perché c'era Esperone e Esperino. Però Esperiro. Ok, io mi ricordo proprio quel PTQ feci con... Volevo giocare Vanni Ferre, quindi provai a giocare Vanni Ferre e feci una figuraccia di merda. Vabbè, lascia a perdere. Ok, e poi giocate Modern pure con Marzio Carvaio, che non deve essere facile giocare Modern contro Marzio Carvaio. Eh no, lui giocava a Umani e ho perso il Dado e in più ho giocato abbastanza male in quel match lì Modern e infatti il primo l'ho perso. Dopo c'è stato il terzo match e lui era arrivato più alto di me e ha scelto di giocare ancora Modern. Nonostante secondo me il matchup, insomma, avrebbe dovuto scegliere Standard ancora per quanto riguarda i matchup. Ah sì? Ha scelto così perché si era gasato che aveva appena vinto. Cioè gli l'ho chiesto e mi ha risposto così. E infatti stavolta il matchup, insomma... Ha girato come doveva. Ha girato, sì, il mazzo ha girato come doveva. Lui ha chieppato a 5 senza terra in G3. Oddio. E io avevo la mano con due felici di secondo, quindi è stata breve. Ok, ciao Marzio Carvaio. Finale. Finale contro Numot. Ah, Numot e mamme, grande. Streamer poi diventato. Stream ancora, vero? Lui, sì, 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 sì. Ma tra l'altro lui già ai tempi aveva un numero di follower abbastanza consistente. Beh, lui è un bravo brewer, si inventa dei mazzi nuovi ogni tanto. Lui gioca tantissimo Limited. Ah, lui gioca tantissimo Limited, sì. Lui principalmente Limited, quello che fa di costruito gioca a mazzi inventati da lui di solito. Infatti in Standard aveva una specie di J.Sky che aveva inventato lui. però non ha potuto niente contro Pianchino. Che, vabbè. Devo chiamare questa intervista tipo Ben Alish Marshall, re di tutti noi o... Sì, ad Alto Vanguard è troppo forte. Ah, ad Alto Vanguard, insomma. E poi giocate Modern, lui che giocava in Modern sicuramente... Tron. Tron! Sì. Proprio RG Tron! Forse era mono verde, non era neanche ruso. Beh, però con Fenici giocava le Reliquie Main Deck? Sì. Ah, ok. Perché sennò aveva zero chance con Fenici, giusto? Beh, insomma, perché in realtà G1... Io non avevo modo di interagire con le sue creature. Quindi a Dado perso G1... Non avrei potuto far niente. Lì in realtà è andata così, cioè che ho perso il Dado G1 e ho perso G1. Poi G2 avevo un paio di Blood Moon, un paio di Ceremonious Rejection e... E sono bastate? Sì, sono bastati. Sostanzialmente è andata così. E G3? A questo punto non lascio il SP? G3 anche. Nel senso che gli ho fatto... Ho counterato la prima minaccia, Blood Moon, da lì non è più riuscito a... Figo, figo. Che emozione, che emozione vincere un torneo del genere, no? Eh, sì, dai, abbastanza. Com'è stato per te? Cioè, a parte che su Twitter hai ancora la foto ed è bellissima e tutti dall'Italia... Chiaramente abbiamo fatto il tifo per te, eh, sappilo, insomma. Questo è... Grazie. Un po' ti lo assicuro. Immagino il rientro in Italia, super contento, no? Sì, 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 abbiamo fatto una cena... Ho offerto la cena a tutti... Ci mancherebbe, sì. Tutti travanese, va via. Va bene, bello. E quest'anno hai partecipato come il reigning champion, cioè il campione regnante, colui che ha vinto lo scorso anno, alla nuova edizione. Quest'anno chiaramente era un modern diverso, però non c'era standard, o sbaglio? Quest'anno c'era Pioneer. Quest'anno c'era Pioneer, infatti, i tuoi in Pioneer, tra l'altro, sono andati benissimo. Sì, ho giocato un mazzo che secondo me è devastante come un biomono bianco. Infatti, lo sapevo che si era andato bene in Pioneer. Che mazzo hai giocato? Peccato di essere andati male prima. Che mezzo hai giocato in Pioneer? For Color Omnett. In Pioneer? Sì. Ah, lo devi dalla lista. È devastante. Ok. E invece in modern hai giocato? GV, Eliud. Ah, sì, è vero, ho visto anche delle partite. Ho visto anche delle partite. Mazzo forte? Sicuramente, secondo me, però è forte nelle leghe. Ed è forte quando il metagame è pieno di aggro. Però è uno di quei mazzi che, se finisci al top deck, auguri. Perché ha veramente dei brutti top deck e in modern quella è una cosa purtroppo importante. Cioè, da una parte di top deck hanno Omnett e hanno magari una feccia a terra. E tu top decki Arbor Elf. Ma anche se top decki Eliud. Cioè, non è... Spesso non fa niente. In questa edizione si è andato un po' peggio. Cioè, si è andato peggio. Sì, 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 sì. In realtà ho fatto 8-6 in Svizzera. Ho capito. Che è una persa in più rispetto all'anno prima. Esatto. E ne ho persa una miscliccando. No. Quindi in realtà... Eh sì, draft. Oh, sono basito. In che senso miscliccando? Eh, perché avevo una Vailful Strix volante. Un 1-1 a terra. Ah, già, che in draft avete fatto Cubo. Che bello, mamma mia. Questo è veramente bello, sì. Cubo top. Ma secondo te Cubo può essere un formato competitivo? Sì, assolutamente sì. Sì, c'è skill. Non c'è sbusto le bombe vere. No, no, no. Cioè, secondo me è tra i formati più skillati. Perché veramente bisogna trovare tutte le interazioni tra le carte. Poi non sempre si riesce a fare un certo archetipo. Bisogna essere veramente bravi a capire quello che è open. Cioè, è veramente, veramente, veramente bello. Vabbè, la mia era un po' una domanda, in verità una provocazione. Perché io lo so che quel formato è super skill. E tra l'altro mi spiace che su MTGO non lo mettono tipo sempre. Perché io lo vorrei giocare sempre. Sono gli unici video di Magic che io vedo sono i cubi di LSV. Sì, sì, sì. Ma ci credo perché lui poi è veramente bravo anche sia a cubare sia a intrattenere. Esatto. Perché ecco, è quel formato in cui veramente tutte le conoscenze di Magic che hai le metti a frutto nello stesso momento. e tiri fuori una... Veramente, cioè, parti da una carta e dici adesso io voglio fare una strategia su questa carta. E lo fai, e succede. Ed è magico, veramente, veramente bello. Anche perché poi è un formato super vasto. Mi piace anche un sacco quando Andrea Mengu fa vedere il suo cubo. Lui ci gioca poi cartaceo con le carte vere. Mi piacerebbe un giorno essere invitato nelle Marche. Mi farò invitare, mi farò invitare. Noi avevamo il cubo qui a Varese. Sì? Di cartaceo. Sì, infatti una volta giocavamo veramente spesso. Ogni settimana. Giusto così, giusto così. Tra l'altro, voglio dire, per uno studente in ingegneria, che noto realmente tra le facoltà più difficili, no? Dove bisogna studiare di più. Poi mi dirai che cosa ne pensi. Un hobby come Magic che richiede così tanto tempo. Non ti ha penalizzato per niente? Ci hai messo cinque anni? Sei un genio? No, allora, devo dire che il primo anno ho avuto un po' di più di difficoltà. Anche perché ero andato a fare un GP la settimana prima dei primi esami parziali a Versavia. ed effettivamente lì ho capito che, insomma, bisognava organizzarsi in maniera diversa. E ho cercato di fare tutti i tornei il più possibile fuori dalle sessioni di esami. Ma a te, fondamentalmente, al di là di questa vittoria che, ripeto, ti ha portato fama, soldi, eccetera, non ti ha mai sfiorato l'idea di fare il professionista, vero? Tu neanche streami? Non ci hai mai provato a fare streaming? No, ho provato a fare streaming. Qualcuno l'ho fatto, sì, però... E allora, qui sotto, troverete riferimenti di Matteo Neto, potrete andare a vedere i suoi streaming, e così via. No, non streami più. No, è vero. No, no, ogni tanto magari ancora potrai pensarci, però... Sai qual è il problema? Che io mi annoio un po' a streammare da solo. Cioè, se potessi tipo streammare io e Gallinari, per dire, insieme, dietro a un computer, commentare le giocate, sarebbe più figo. Perché non si può su Magic Online. Perché? Eh, per regolamento Wizard non si può fare questa cosa qui. Non si può giocare in due. Quindi mi stai dicendo che tutti i video che io ho messo sul canale dove gioco con le persone MTGO o se mi becca Wizard che mi fa? Ma che io sappia niente, però... Cioè, in teoria non si può. Almeno io credo che sia così. Non lo sapevo. Invece su Arena sì, scusa. Perché secondo me non si può fare... Ma nelle leghe sì, ma negli eventi no. Non c'è problema. Non lo so, sinceramente non lo so. Cioè, il contrario, scusa. Negli eventi non si può, perché sono outside information, eccetera. Ma nelle leghe che problema c'è? Ma io ho sempre saputo che non si potesse in generale. Poi io magari mi sbaglio io. Ma mi hai appena denunciato a Wizard. Però tra l'altro c'è anche il problema che io e Gallinari viviamo in due città diverse. Sì, no, beh, certo, lo potresti fare online, fai sentire comunque la sua voce nel tuo stream, viceversa. Siete molti amici con Samuele? Ma ci conosciamo da un po' di anni, sì. Dal 2014. Con Magic vi siete conosciuti? Sì, con Ticu. Quanti amici hai conosciuto con Magic? Più o meno quasi tutti, diciamo. È un hobby veramente incredibile. La gente non lo capisce. Qual è la cosa... Ecco, se dovessi veramente dire a qualcuno che non lo conosce o che in generale addirittura è... Resti io a conoscere Magic, eccetera, invece di farlo entrare in questa fantastica community? Come lo convinceresti? Ma, cioè, secondo me la cosa più bella alla fine è andare tipo a fare un torneo fuori con amici, sicuramente. Gli racconterai le storie forse di quando siamo andati, non so, a fare un GP a Varsavia piuttosto che a Lione. E poi mi sono divertito un sacco per convincerlo. Eh, muo' il momento che mi racconti a me la storia, però. Che è successo a Lione e a Varsavia? No, beh, no, no. Ci siamo divertiti molto, mettiamola così. È bello che poi, insomma, è figo perché si creano questi gruppi di gioco in generale con cui tu giochi a casa, no? Ma poi quando vai in questi mega eventi, pensi sì al gioco, ma pensi anche e soprattutto a divertirti, no? Anche perché la cosa spiacevole è che c'è sempre uno che va male subito. Perché magari il gruppo è grande, 4-5 persone, ha un GP, se prendi 5 persone a caso ci sarà sempre uno che fa 0-2 troppo, comunque che si rompe, insomma, che non va bene. E quindi quello è il primo che si mette a guardare le partite e a dire, oh, ma quando finite che ci andiamo in giro? Ho sbaglio. È vero, è vero. È visto? È successo. O vuole andare a mangiare prima. Esatto. Vabbè, quello che vuole andare a mangiare sono sempre io. Quindi non fare un GP con me, perché io comunque, anche durante la partita, ho il turno tra un minuto, io devo assolutamente mangiare sempre. Poi sai, all'estero mi riempio di schifezza, perché in Italia cerco di mangiare sano perché ce lo possiamo permettere. All'estero, tanto, come capiti, capiti, mangi male e allora do proprio insieme. No, però ecco, è una bella risposta perché io è la stessa cosa che direi a chiunque vuole entrare in questo mondo, perché i GP all'estero sono una roba proprio che te la ricordi tutta la vita. E le amicizie, comunque Magic mi ha dato, io chiaramente mi sono avvicinato che ero un po' più grande. Quindi io le amicizie magari più importanti ce le ho con il net gaming, con l'eSport, perché sono quelle poi della tua età, tra i 20 e i 25, che ancora facevo l'università e così via. E molti di quegli amici ancora ce l'ho, con uno mi frequento. Per Magic comunque c'è un gap di età diverso con i giocatori di Magic, grande, però molti sono veramente amici fraterni, fratelli. Veramente, veramente una bella community. Ti è mai successo in verità qualcosa di spiacevole nella community di Magic? C'è qualcosa per cui diresti no, invece non te lo consiglio di venirci? Ma mi sono successi episodi brutti, tipo gente che prova a quasi trassarti o a darti la colpa per qualcosa che non hai fatto. Tipo a un protour, stavo giocando, era a Bruxelles quest'anno, stavo giocando Blue Rose and Soul contro Mano Nero, Mano Nero da Pioneer. E avevo un Bomat con sotto tre carte, l'ho poi a cinque. E se tra quelle tre carte ci fosse stata una Shrubner Blast, avrei vinto. Il mio avversario tappa quattro, gioca a Ankle e mi attacca. E gli faccio, va bene, dimmi, insomma, prendo i danni, dimmi che abilità fai. E lui fa, eh no, insomma, sacrifichiamo e scartiamo. Gli faccio, va bene, allora spacco il mio Bomat e pesco le tre carte. E mi accorgo che lui aveva già messo al cimitero una carta scartata, dalla mano. E ha provato a convincere il Judge che, insomma, che avesse già risolto l'abilità. Ma cosa che non era mai successa, solo per non farmi pescare quelle tre carte sotto. Tipo questo è un esempio. Alla fine mi sono appellato alle Judge, che mi ha dato ragione, e c'erano tre terre sotto perso. Tristissimo. Cioè, capito, capito. Però è un bel esempio, invece. Cioè, hai raccontato una bella storia. Perché, pensa, lui ha provato in tutti i modi a utilizzare un metodo sbagliato e illegale per vincere una partita che avrebbe vinto lo stesso. E il destino aveva deciso che vinceva così. Quindi lui ha fatto solo una figura di merda epocale, quando poteva giocare sano, e avrebbe vinto lo stesso. Sì, sì, sì. È vero. A me, effettivamente, pure, sui tavoli da gioco sono successe delle cose un po' spiacevoli. Però, cioè, sono la minor parte. Tu? Cioè, quante partite hai fatto a Magic Cartaccio con quanti avversari diversi? Un sacco. Centinaia. Centinaia, migliaia. Migliaia. Quante episodi spiacevoli ti ricordi? Tre, quattro, cinque, non so. Meno di dieci, sì. Meno di dieci. Quindi, alla fine, sai che c'è? In tutte le comuni c'è una parte di tossicità. Normale. In tutte le categorie sociali c'è una quantità, c'è una percentuale di stupidi e di, insomma, di gente stronzi. Vabbè, l'ho detto, su YouTube si può dire. E alla fine ti può capitare, ti può capitare. Io, insomma, ricordo comunque, sai cosa? In Magic l'archetipo di quello che effettivamente è una persona che io non voglio mai beccare, che è spiacevole, è quello che proprio ci tiene un sacco a vincere. Vuole proprio, proprio vincere. Che vuole vincere contro di te, a tutti i costi. E non si gode la partita. Mentre io mi voglio godere la partita. La conversazione, il ragionamento, le cose che fai. Quando becchi quella gente lì, effettivamente un po' ti fa passare la voglia. Addirittura, molte volte, mi viene pure da sbagliare apposta, sai. Cioè dico, vabbè, senti, vinci sta partita perché non ne posso più di stare comunque con te. Che devi contare tutte le cose che devi dirmi ogni cinque secondi che sto facendo, che sto pensando troppo. È una cosa fastidiosa. Però è, ripeto, nell'arco della normalità, no? Sì, 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 è vero. Sì, anche a me è andato un po' fastidio. Quali un po' troppo convigliosi per... Che poi di solito non sono manco tanto forti. Sì, cioè suppliscono alla skill. Senti, allora dobbiamo svegliare questa cosa importante. Io quando vado live ogni tanto ho messo come titolo The Urza Master perché io ho fatto top 8 a un PTQ che poi ho buttato, l'ho raccontato pure in un video, settembre 2019 con Urza e è il 19, è il 2020 adesso. E fondamentalmente è il mazzo che ho giocato fino a che c'era Astrolabio, il mazzo che ho giocato di più, la carta che ho giocato di più, in moda, eccetera. Ma in verità io le Briu le prendevo da te. Non tutte, ma quasi tutte, anche senza mai sentirci. Quanto è figo Urza? Molto. Come mazzo mi piace veramente un sacco. Peccato adesso che senza Astrolabio fa un po' più fatica, però secondo me non manca tanto per essere ancora forte. Una carta... Gli manca una carta. Se stampano ancora qualcosina può essere ancora Tiro 1, secondo me. Perché infatti, proprio questo mi dice, ogni tanto ci confrontiamo su Twitter e tu mi dici, no, ma perché sai, secondo me lo devi giocare così, lo devi giocare con lì o comunque insomma, però adesso non ha proprio speranza. Cioè, dall'altra parte ci sta Money Tribal, ogni carta che gioca 100 euro e non... No, poi non è vero. Però Uro, Omnat, Field of the Dead, noi la potemo fare, noi giocatori di Urza. È difficile, adesso è difficile. Soprattutto, secondo me, più che Money Tribal, io temo che adesso il problema sia Vale of Summer. Perché in realtà, secondo me, adesso ci potrebbe essere una versione di Urza, magari Grixis, con molti counter, removal, jam in deck, insomma, con la combo, solo di supporto, diciamo, a una shell di blu-nero control. Però il problema è che se lui tappa uno di Fabio Summer verso qualsiasi critico Archmage Arn è un casino. No, ma io tutte le volte che mi capitava di andare al negozio e quindi di fondamentalmente intavolare, o anche in chat su Twitch, intavolare discussioni sul Modern, io dico sempre la stessa cosa. Secondo me, oggi come oggi, Modern è un formato sanissimo, è il più bel formato di Magic, veramente le partite sono interattive, è bello, bisogna pensare, c'è skill, eccetera. Il Modern ha solo un problema e Vale of Summer. Cioè Vale of Summer è proprio una carta che secondo me Modern non può reggere. Tu sei d'accordo? Vale of Summer è un bel casino, sì. Cioè nel senso che è troppo efficiente per quello che... Ma è necessario al formato, secondo te? Cioè secondo me se la bannassero sarebbe meglio. C'è da dire che non vorrei toccare qualche tasto e scombinare gli equilibri, perché effettivamente adesso il Modern è bello, quindi anche loro non penso che vorranno intervenire. No, ci sta. Il punto è che da una parte uno pensa, se levo Vale of Summer ai mazzi che non hanno il blu, gli levo un tool fortissimo da giocare con i mazzi, contro i mazzi che giocano il blu. Sì. Il problema guarda caso è che i mazzi che non hanno il blu sono pochissimi e Vale of Summer lo gioca la gente che c'ha Uro già dentro, che gioca a blu verde, quindi dagli pure Vale of Summer contro gli scartini non si può più fare secondo me. Ecco per esempio l'Urza che dici tu blu-nero, io ho smesso di giocarlo proprio per Vale of Summer, perché comunque se penso a una sfida blu-nero-Urza contro Money Tribal si può vincere. Cioè tu puoi grindare Oppo, anche se lui ha mille zombie, con i tuoi pedini volanti, ornitotteri eccetera, ma se io ti faccio scartino e tu ve lo of Summer sono morto. Sì sì, ma infatti adesso Toad Size cioè è comunque forte, però i mazzi tipo Shadow che uccidono è veramente in fretta. I mazzi più grindosi secondo me non si può giocare, perché in late vuoi che tutte le tue carte siano vive e Toad Size non lo è in più in late. Ci sta. Ripeto, è un ragionamento che faccio da tempo, speriamo, però ho visto che ti sei interessato al bunt che avevo postato e poi non so se hai visto, adesso ho giocato la versione Aspiring Pie che è bellissimo, è un mazzo bellissimo, Fancestra ha quel mazzo, quasi Fancestra. È simile a quello che ti dicevo, mi sa, con le Witness Ephemerate. Sì sì sì, è quello. Penso che avevo una mezza intenzione di giocare un mazzo simile a questi mocks, solo che poi insomma ho trovato questo GV Elliot che mi piaceva e ho aggiunto le Give of Rooms che non giocava nessuno, le ho aggiunte io, sono stato il primo penso, il primo 5-0 con le 4 Give of Rooms è stato mio e poi alla fine niente, ho giocato quello, avevo più esperienza, non me la sentivo di portare una privata. Ma è vero che quando testi per questi tornei e sei un giocatore importante e famoso come te che la gente osserva, se fai 4-0 la quinta la concedi? Allora con il mio account Io non lo farei mai. Con il mio account non l'ho fatto. Quando mi hanno dato quello di prova di Wizards con i Playpoint gratis ho concesso su 4-0 tutte le ligue. e scusa, questi account con i Playpoint, cioè tu che nickname avevi? Dimensional. Te lo sei scelto tu però? No, 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 mi hanno dato un account e le pubblicano? Cioè queste liste qui le pubblicano sul sito ogni tanto? Anche di questi account qui pubblicano le liste? Perché mi stupisce la cosa, in fondo sono account loro, non sono giocatori veri? No, invece sono account che danno ai giocatori per testare per i mox e solo per quel torneo lì e se tu fai 5-0 con quell'account lì le tue liste c'è il rischio che vengano pubblicate. Infatti da quando ho avuto l'account finto diciamo ho sempre concesso su 4-0 perché avevo un'innovazione sia nel nel modern che in realtà poi era uscita purtroppo già prima perché a 1-5-0 l'avevo fatto col mio account sia in Pioneer perché ho aggiunto le silvancariati a Omnath che non giocava nessuno Mi devo prendere la tua lista di Pioneer anzi sai che c'è la prossima settimana dovrei giocare Pioneer sul canale giochiamolo insieme facciamo questa cosa illegale vieni a mostrarmi come si gioca se c'hai un po' di tempo facciamo una lega Pioneer volentilissimo volentilissimo col Mazzola è bellissimo tra l'altro è stradivertente bene 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 dai allora grazie che dire Mattia io ti ringrazio per essere stato con me a Italian Player so che sei richiestissimo da un altro ingegnere gestionale sì mi hai scritto l'altro giorno al quale ti lascerò nelle sue sabienti mani ovviamente stiamo parlando di Cina Biondo che saluto e niente insomma dai lasciamoci con appunto tra un po' ti laurei poi andrai a lavorare avrai sempre meno tempo e smetterai con Magic non so vediamo dove ci porta la vita però non parti che devi smettere di la verità no 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 non parto che devo smettere però diciamo che il fatto di non avere i tornei cartacei è un problema cioè io vorrei giocare molto di più cartaceo se possibile che online online dopo un po' cioè insomma lo uso per testare fare i tornei magari da dieci ore online non c'ho tanta voglia sinceramente si è veramente estraneante veramente estraneante se no se vuoi puoi fare come fanno tutti smetti perché hai trovato lavoro quindi adesso non posso più e c'è e poi ritorni perché tutti tornano tutti nessuno escluso state d'accordo? è vero è vero grazie ancora Mattia Oneto ripeto non so che lo streammassi lascio qui in descrizione tutti i tuoi link per trovarti il tuo twitter non so se è instagram vabbè dammi quello che hai se la gente ti vuole followare ti follow il campione 2019 del mox un altro italiano quanto spaccano gli italiani in magic manco solo io ora arrivo tranquillo ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti